DANTINO PIPPONE NUMERO GIA SEDICI PIPPONE NUMERO SEDICI MASOLINO Per rimanere sempre aggiornato sui pipponi ed i pipponi mi raccomando seguimi su facebook a spassoollanna Poi mi trovi anche sul canale youtube e poi e poi e poi anche su instagram Sono social Dantino sono social Oh qua se ti scappa un like non mi dispiace Dantino anche Masolino è uno di quegli artisti che chiamiamo per soprannome Perché Masolino non è il suo nome Lui si chiamava Tommaso di Cristoforofini Masolino è il diminutivo di Maso Che a sua volta è il diminutivo di Tommaso Perché a Firenze ancora non ho capito il motivo Ma invece di chiamare Tommaso Tommy lo chiamavi Maso Anche Simone, anche Simone è Mone Non era Simo Certo sti fiorentini sono proprio strani Comunque Masolino sui libri di storia dell'arte lo trovi come Masolino da panicale I suoi primi 40 anni di vita sono un mistero Masolino è uno dei principali artisti del gotico internazionale Ma è un gotico internazionale tutto suo Perché lui sta a Firenze E a Firenze siamo nel 400 C'è il rinascimento, c'è la prospettiva E quindi a questo gotico internazionale aggiunge lo spazio Tra le prime opere di Masolino troviamo la madonna Boni Carnasecchi Boni Carnasecchi perché probabilmente era per un matrimonio tra queste due famiglie E troviamo anche la madonna dell'umiltà che è conservata agli uffizi Chiama dell'umiltà perché non sta a sedere su un trono come le maestà Quelle di Ciotto, di Duccio, di Cimabue No, lei sta seduta su un cuscino Hai visto Dantino che tratto dolce c'ha il Masolino? E il nostro Masolino lavorerà anche a Empoli Poi fece un discreto successo Infatti cominciarono ad arrivare un sacco di commissioni E lui cominciò a chiedere aiuto ad artisti Perché insomma farle tutte da solo è un po' difficile Tra le grandi collaborazioni abbiamo la collaborazione con Masaccio Lavorarono per Santa Maria Maggiore e per il Trittico Carnesecchi Poi c'è la Sant'Anna Mettersa Famosissima questa, la trovi in tutti i libri di storia dell'arte Sant'Anna Mettersa si chiama così perché la Sant'Anna è messa per terza Masaccio fece la Madonna col bambino e Masolino la Sant'Anna e gli angeli Anche se quest'angelo qua dicono che sia del pennello di Masaccio Di solito quando si faceva questa iconografia si metteva in risalto la Sant'Anna Ma in questo caso sono la Madonna col bambino che risaltano di più Perché sembrano proprio delle statue in confronto alla Sant'Anna E sembra quasi piatta Quando si parla di Masolino e Masaccio non si può non parlare della Cappella Brancacci Qui si vede proprio la differenza fra i due Masolino così dolce, così elegante, così fine E Masaccio Masaccio che è un pochino un po' più aspro, un po' più duro C'è un po' di differenza Come si fa a riconoscere un pennello da quell'altro? Gli storici dell'arte sono un po' dei detective In più hanno un occhio particolare Ma quest'occhio in realtà ce l'abbiamo anche noi Se ti ricordi alle elementari quando qualcuno perdeva un quaderno Bastava aprirlo, guardavi la calligrafia e dici Ma questo qui è da Antonio E lo stesso è per i pittori La loro pennellata è la loro scrittura, è una calligrafia E in questo modo riescono a riconoscerli Anche se non è proprio sempre facile Nella Cappella Brancacci troviamo le storie di San Pietro Io ti faccio vedere in particolare questa Da una parte vediamo i mendicanti San Pietro che passa E sono tutti vestiti un po' da straccioni Un po' all'antica E poi troviamo però questi due personaggi Ma che ci fanno? O come sono conciati? O come sono vestiti? O che c'entrano? Probabilmente qui Masolino e Masaccio Ti vogliono dire di quanto è contemporaneo Il messaggio che vuole dare San Pietro Nel 1425 Masolino andò in Ungheria E poi tornò, tornò a Roma E Roma voleva riprendere la collaborazione con Masaccio Solo che Masaccio morì A Castiglione Olona in provincia di Varese Il nostro Masolino entrò nelle grinfie del cardinale Branda E grazie a questo aggancio non indifferente Poté lavorare per il suo palazzo Lavorò per il battistero Lavorò per la collegiata Ma come sono eleganti questi personaggi Ma, ma proprio sto loggiato Ma è lunghissimo, non finisce più Dantino, tutto questo è stato restaurato da poco E dice che prima C'erano anche dei pezzettini d'oro Che andavano a impreziosire tutta la scena Chissà come sbrillucicava Oh mi raccomando Se c'è un artista che ti garba Dimmelo, è che si fa un pipone Che andavano a impreziosire tutta la scena Che andavano a impreziosire tutta la scena